Molto bene, allora siamo con Aleish Boregan, Aleish finisce questa regular season, Valdagno finisce settimo Una partita questa sera con due gran bei gol tuoi, però direi un Valdagno che ha dato dimostrazione che quando serve giocare ci siamo tutti No sì, noi abbiamo fatto questa partita anche perché dobbiamo trovare quello Valdagno che eravamo prima No abbiamo potuto fare altri punti ma stiamo con la testa alta, io pensando in martedì che abbiamo una sfida difficile Ecco sì, la sfida con Sandrigo, l'abbiamo detto prima, non c'è niente di scontato perché Sandrigo metterà anima e core come si dice in questi casi Avrà anche una gran tifoseria, voi potrete contare spero su altrettanto supporto, è qualcosa di difficile, noi non diciamo niente Ti facciamo ancora i complimenti per i tuoi due gol e forza Valdagno Sì, grazie, anche noi metteremo testa e cuore, sicuro che la portiamo avanti, se giochiamo insieme, vinciamo sicuro